ed eccoci qua ragazzi per questo nuovo video oggi in veste natalizie perché questo video uscirà a natale quindi ragazzi buon natale a tutti questo è un video diciamo un po vecchiotto di quest'estate che non ho ancora pubblicato e lo pubblico oggi perché diciamo che questa settimana non ho avuto molto tempo causa impellenze lavorative comunque ragazzi restate sintonizzati al canale perché nelle prossime settimane arriveranno tante ma tante novità quindi ragazzi grazie ancora iscrivetevi se non l'avete ancora fatto bel pollice in su e vi lascio al video comunque buon natale ciao ciao eccoci nel paese di mazzo adesso si parte per il passo del mortirolo ciao 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 ci siamo agli ultimi cinque tornanti ultimo tornante e poi c'è il passo passo dal mortirolo mortirolo eccolo la mortirolo ecco un belma che va bene gente non avvolta sul liceo aiuto c'è il puto lì è l'altro Grazie a tutti